E benvenuti a tutte e tutti, oggi è il secondo incontro del ciclo, insomma del corso Frontiere della letteratura Dopolina Bolzoni, oggi abbiamo con noi Rohan Johnson, non credo che ci sia bisogno tantissimo di presentarlo comunque sceneggiatore, regista, anche scrittore, sta per uscire tra l'altro il suo nuovo romanzo, no? Per Mondadori, ha insegnato anche, ora è un po' che non lo fai forse, sceneggiatura, anche qui a Pisa in università e poi ho visto al John Cabot a Roma e poi a Venezia in diversi laboratori e oggi ci parla della sua esperienza della scrittura per la TV e per il cinema e insomma, ecco noi lo ringraziamo molto ad essere qui Grazie mille, grazie a voi per avermi chiamato e spero di esservi utile il più possibile Insomma, siete il ganglo nevralgico di tutta, penso, il futuro nostro che sembra abbastanza plumbeo, quindi siete la nostra speranza, diciamo Io inizierei col fatto che ho avuto la fortuna di scrivere fondamentalmente per tre grandi, ma li chiamerei macro insiemi, no? Cioè, uno ho scritto a livello accademico da, probabilmente si parte con i temi al liceo fino ad arrivare con le tesi all'università e poi ho scritto sia dei romanzi che delle sceneggiature per il cinema e la televisione e mentre diciamo queste prime diciamo qui dobbiamo fare già una separazione ed è una separazione diciamo di tipo umano-psicologico, no? Cioè, quando si scrive un romanzo o anche quando si scrive una tesi tendenzialmente si scrive da soli quindi è una sorta di maratona, no? La lotta è tutta e unicamente contro te stesso In compenso hai una discreta libertà direi che col romanzo hai una libertà veramente molto ampia poi certo ti raffronti poi con degli editor, delle case editrici a me è capitato ora con Einaudi Stile Libero il primo e ora con Mondadori però diciamo che la percentuale di costrizione che si ha dentro un romanzo che viene dall'esterno è molto bassa mentre quando si scrive per il cinema e la televisione si scrive in gruppo questo è diciamo una caratteristica principalmente italiana perché la scuola anglosassone vuole sì che anche lo sceneggiatore spesso scriva da solo ma anche in quel caso in realtà firma da solo la sceneggiatura ma è attorniato durante tutto il processo di scrittura da diverse figure che sono editor, script doctor, produttori, attori, regista con cui deve fare i conti e questo quindi crea diciamo un lavoro anche in quel caso molto più collettivo di quello che è invece la scrittura del romanzo quindi diciamo che la caratteristica ecco intanto più diversa della scrittura della televisione e del cinema è il fatto che si lavora in gruppo e non so quanto possa essere applicabile o se vi serve sapere questo per fare dei laboratori a scuola però ecco io credo che dalla scrittura in gruppo e dal lavoro in gruppo ho forse tratto i maggiori insegnamenti alla mia vita il primo del quale è che non sei tu il centro del mondo e spesso non sei quello che detiene la verità e la ragione ed è stato un processo abbastanza difficile e psicologicamente formante che è iniziato quando sono entrato al centro sperimentale di cinematografia a Roma che è la scuola nazionale di cinema che è una delle più antiche in Italia e nel mondo tra l'altro credo la seconda più antica nel mondo dopo forse quella russa o sovietica al tempo ovviamente che sta di fronte a Cinecittà praticamente lì dentro vengono selezionati ogni anno sei alunni per corso e tutti gli alunni della scuola compongono un'intera troupe cinematografica cioè ci sono tutti i settori che si abbisognano per fare un film sono dentro il centro sperimentale quindi ci sono sei montatori sei direttori della fotografia sei registi ci sono anche sei attori e sei attrici ma questo è un capitolo a parte ma non vi sto ora a tediare con questo ci sono sei tecnici del suono sei costumisti e sei scenografi e alla fine ci sono anche sei sceneggiatori lì dentro abbiamo iniziato a imparare cosa voleva dire raccontare e scrivere non da soli che effettivamente se ci si pensa è un processo abbastanza strano da pensare per noi cioè credo che nella stragrande maggior paranza della storia del mondo gli umani abbiano scritto fondamentalmente da soli o se no era un lavoro di ricuscitura di tanti aneddoti e tante storie però tendenzialmente lo scrittore scrive da solo invece gli sceneggiatori no gli sceneggiatori e a maggior ragione gli sceneggiatori di lingua e di scuola italiana scrivono in gruppi durante ad esempio il neorealismo succedeva molto spesso che c'erano quelle che si chiamavano le ammucchiate cioè si arrivava in una casa e c'erano tre quattro sceneggiatori e poi ogni tanto entrava qualcuno si metteva lì a ragionare sulla storia o magari uno entrava e diceva ma io ho sentito sta battuta ganzissima ah ganzissima la tiravano giù e poi lo mettevano nei titoli di coda infatti se voi vedete i film come l'inizio e la commedia all'italiana i soliti ignoti ma anche film del neorealismo molto importanti se scorrete i titoli di coda vedrete che a sceneggiatura ci potrebbero essere tre, quattro a volte cinque sei firme diverse ovviamente queste firme non avevano lo stesso speso specifico però vi faceva capire come era veramente un laboratorio collettivo e artigianale ora com'è possibile riuscire a scrivere non solo in uno ma anche in due ma in tre o in quattro dove si deve decidere tutti insieme la storia ecco è uno sforzo da un punto di vista proprio credo di carattere e di personalità molto molto difficile soprattutto in un'età quando io sono entrato al centro avevo 25 anni ma comunque mi intestardivo a rimanere nella mia adolescenza e quindi avevo tendenzialmente l'idea che io avessi ragione e gli altri no e quindi quello che succedeva al centro sperimentale dove ovviamente su selezioni di 500 persone poi entrano solo in sei per classe tra l'altro con un processo paranazista da studiare psicologicamente cioè loro fanno così ci sono ai miei tempi per sceneggiatura credo che ci fosse c'era stato un anno di buco quindi c'erano tipo credo 600 domande per sceneggiatura tu devi mandare un soggetto un piccola cosa che hai scritto te dei dialoghi eccetera scelgono attraverso quello e c'era anche un test a crocette che poi per fortuna hanno eliminato di cultura generale scelgono 24 persone che vanno a fare un colloquio con gli insegnanti lì al centro e la preside eccetera e alcuni che hanno grandi nomi che hanno insomma deciso di chiamare per quelle selezioni dell'anno di cui parlano fanno anche una una prova scritta dopodiché ne prendono 12 di questi 24 e qui arriva la cosa interessante questi 12 li tengono per ai miei tempi due mesi nella scuola che è il posto più bello del mondo in cui tu vorresti rimanere per tutta la vita con tutti gli altri studenti tutti eccitati per questa cosa meravigliosa di stare al centro sperimentale eccetera per due mesi tu diventi migliori amici dei tuoi amici che già sono amici perché hanno la tua stessa spazione di fare lo sceneggiatore vengono da tutte le parti d'Italia e poi alla fine di questi due mesi sei li mandano a casa e sei rimangono ecco anche in quel processo lì tu dovevi scrivere insieme a gente che magari ti avrebbe scalzato e ti avrebbe fatto il posto ma lasciamo perdere questo esempio molto diciamo specifico e ragioniamo invece sull'esempio più largo cioè diciamo dobbiamo scrivere una sceneggiatura in tre o in quattro persone qual è il processo creativo e psicologico che si viene a creare in questo momento è molto difficile e quello che succedeva al centro sperimentale mi ricordavo era che mi ricordo non era che io voglio che la storia funzioni nel miglior modo possibile io voglio che la mia idea vinca sulla tua e questa cosa qui è una sorta di prova del fuoco credo e di iniziazione della psicologia dello scrittore perché se tu superi attraverso il confronto con gli altri questo iniziale gradino cosa succede che anche quando ti troverai da solo avrai la coscienza di dire io non devo trovare la cosa che mi garba di più ma devo trovare la cosa che è più giusta per la mia storia e credo che da lì ecco sia nato per me uno dei concetti fondativi diciamo del mio modo di lavorare e cioè che non importa tanto l'idea più bella o più con più charm o che brilla di più nell'aria ma è l'idea più giusta ed è un concetto che si espande ad esempio anche nella regia poi per me cioè questo concetto che ho capito in scrittura poi me lo son portato anche nella regia vi faccio un esempio molto banale per capire questo concetto che può sembrare un po' astratto ve lo faccio purtroppo in una scelta di una location registrica e non in una scelta di scrittura che forse è più difficile o comunque in questo momento non ce l'ho in mente a un certo punto io dovevo girare per il mio primo film i primi della lista che è la storia di tre ragazzi pisani aspettate tutti vabbè la Dio guarda di tre ragazzi pisani che per paura del colpo di stato nel 1970 sfondano il confine austriaco e si dichiarano prigionieri politici in Austria ok e non era successo niente ovviamente perché non lo sappiamo e io dovevo scegliere la location dove loro avrebbero fatto lo sfondamento del confine quindi il confine dovevamo scegliere il mio scenografo mi porta eravamo al confine in realtà magia del cinema fra Italia e Francia e non Italia e Austria in un posto dove c'erano due casupole dei casulari una strada e questa meravigliosa foresta di larici tutta attorno e lui mi dice guarda secondo me dovremmo fare il confine fra Italia e Austria qui ed era un posto meraviglioso dovunque tu avessi messo la macchina da presa avresti fatto una grande inquadratura tra l'altro i larici avrebbero iniziato piano piano a prendere una colorazione meravigliosa era tutto perfetto ma c'era qualcosa che era una location bellissima ma c'era qualcosa che non andava e cos'era? era che io stavo raccontando un momento fondamentale nella storia di questi tre ragazzi che era il passaggio da una situazione legittima di paura eccetera a una situazione invece di illegalità fuga altro mondo ok? quindi avevo bisogno di un momento dove ci fosse questo passaggio dalla normalità all'essere sconfinati in un mondo altro e quindi siamo riscesi giù dove c'era invece una strada normale e le montagne erano solo dietro la parte dove avrebbero sconfinato verso il confine austriaco mentre alle loro spalle c'era ovviamente insomma non era una cosa cittadina ma c'era una strada asfaltata con delle case normali dietro ecco io dovevo purtroppo farmi una violenza e rinunciare ai larici meravigliosi e avere problemi a dove piazzare la macchina da presa ma tornare in quel punto che era un vero e proprio confine mentre lì era come se avessi già sconfinato ecco questo per farvi capire credo quanto il processo di scrittura collettivo sia un'arma molto difficile da gestire non so perché ma io mi immagino voi che un giorno facciate scrivete insieme delle cose vabbè e forse non è questo non lo so se mai lo doveste fare sappiate che andreste incontro a un disastro annunciato ovviamente però questo disastro porterà dei buoni frutti credo ovviamente è una pratica credo che non è che si può fare un giorno un pomeriggio cioè è una pratica che va portata avanti e che ha ovviamente bisogno di un suo sviluppo e di un suo tempo detto questo la vera soluzione al problema finale perché c'è un problema e cioè chi è che ha l'ultima parola e l'ultima parola ce l'ha il regista e qui c'è un altro concetto credo molto importante dello scrivere che credo che sia abbastanza simile a quello di quello che vi ho spiegato prima cioè della scelta di una situazione giusta rispetto a una bellissima e cioè che si scrive al servizio di qualcuno di qualcosa ed è un concetto che credo che poi ora insomma la cosa di cui parlerò anche di più è cosa il concetto che va applicato maggiormente quando si parla di adattamento da un testo letterario cioè quando si scrive per il cinema si scrive al servizio del regista si scrive al servizio della storia e al servizio del regista perché dopo un po' che tu scrivi con 3-4 persone ti accorgi non solo che tu non devi provare a imporre la tua idea ma devi trovare l'idea giusta per la storia ma ti accorgi anche che non c'è un solo modo giusto di sviluppare la storia e quando ti accorgi che non c'è un solo modo giusto per sviluppare la storia lì capisci che entra un altro fattore che è un fattore imponderabile che è un fattore soggettivo probabilmente un regista e uno scrittore scriverà una storia in un certo modo e un altro lo farà in un modo tutt'altro diverso e potrebbero venire due capolavori quando di solito parlo a dei ragazzi che mi chiedono appunto cosa dovrebbero studiare per fare regie eccetera gli consiglio sempre la lettura di un libro che per me è stato fondamentale che si chiama L'occhio del regista è un libro edito da Minimum Fax che praticamente intervista venti registi diversi credo una ventina di registi diversi su diversi aspetti la direzione degli attori la scrittura della sceneggiatura la scelta delle location il modo lo stile con cui la grammatica con cui si prova a montare un film eccetera e la cosa molto interessante la cosa veramente strabiliante è che questi registi ovviamente sono Pedro Almodovar Scorsese Woody Allen i Cohen cioè dei geni che hanno fatto dei capolavori e tu a volte trovi per fortuna delle domande praticamente identiche cioè tipo ma tu agli attori gli dici cioè secondo te è importante dirgli tutto della storia e a quel punto il regista che ha fatto dei capolavori che è un genio dice assolutamente no non gli va detto perché se no loro sanno già tutto prima invece se tu gli lasci quel minimo di mistero per cui loro non sanno dov'è che va il loro personaggio quelli allora ti daranno veramente un'interpretazione magnifica perché per loro ci sarà quella sensazione di abisso di non capire dov'è che stanno andando come le persone normali e ti dici ah ho capito come fare questa è la lezione che dovevo fare poi aspetti altre tre interviste e ti ricapita la stessa impressione la stessa domanda ma secondo te è giusto dire agli attori e un altro che magari è scorsese che ha fatto dei capolavori di un genio ti dice gli attori devono sapere tutto ma non solo dove va a finire la storia devono sapere anche cos'è che avevano fatto 35 anni prima devono sapere se il caffè lo avevano macchiato lungo d'orzo quando è quella volta che si devono scrivere delle piccole backstories delle loro ex fidanzate quelle volte che ci sono rimasto male eccetera eccetera quindi la cosa meravigliosa diciamo è che entriamo quindi in un mondo sconfinato dove diciamo le vie sono infinite e sono contraddittorie soprattutto quindi diciamo che nello scrivere una storia quando si tenta di capire a chi è che si sta facendo il servizio della storia ovviamente rientra nel tuo gusto però anche qui ci avrò degli esempi poi per farvi capire dov'è che secondo me poi uno fa delle riflessioni fa delle analisi e tenta di prendere la decisione giusta e che dire la mandibona ora entriamo dentro la dimensione dell'adattamento letterario io ho avuto la fortuna di adattare diverse cose perché io ho adattato dei romanzi di Lucarelli per una serie che era il commissario De Luca ambientato fra la fine del fascismo e l'inizio della liberazione sto continuando ad adattare i romanzi Malvaldi tra l'altro sono venuto ora ero da Marco per le prossime due puntate del Barlume e credo in realtà di aver fatto un lavoro di adattamento anche con i primi della lista perché i primi della lista in realtà a me è arrivata la storia cioè mi è arrivata perché un ragazzo di Pisa un giorno mi chiama e mi dice guarda Roan c'è questo soggetto che vorrei tu leggessi e mi manda queste 15 pagine che io inizio a leggere molto incuriosito qualcosa mi risuonava e poi dopo ritrospettivamente ho pensato anche certo questa era quella leggenda metropolitana di questi tre pisani che avevano chiesto asilo politico all'Austria che avevo sempre pensato dato per scontato mentre qualcuno raccontava che fosse una cazzata cioè o perlomeno che fosse una roba perlomeno molto molto romanzata ok quando ho letto questo romanzo scusate questo soggetto che in realtà tecnicamente non si potrebbe nemmeno scrivere nominare soggetto perché un soggetto diciamo tecnico cinematografico a parte che è un po' più lungo perché siamo sulle 30 pagine ma poi ha tutte delle diciamo caratteristiche che ti fanno capire che sei di fronte a un soggetto cinematografico quindi certe cose dei pensieri interni del personaggio di solito sono non sono messe c'è un'attenzione più al visivo che ha raccontato c'è tutta una serie di accorgimenti però io chiamo questo mio amico e gli dico guarda comunque complimenti perché c'era uno stile di scrittura un'ironia nel testo una felicità di penna di dialoghi di situazioni che veramente come aveva infatti dicevo lui non faceva lo scrittore dicevo boi complimenti e lui mi fa no ma non l'ho scritta io l'ha scritta il vero Renzo Lulli che ai tempi aveva 16 anni e che adesso ne ha 60 e vive in Marocco e c'ha po' da fare evidentemente e quindi ha scritto questo raccontino che quindi era un memoir cioè in fondo potremmo chiamarlo un memoir un racconto un memoir breve di un diciamo un evento molto circoscritto della sua vita infatti la cosa veramente interessante di quello spunto là è che aveva già delle unità diciamo di di azione tempo fortissime luogo un po' meno però insomma in realtà anche lì uno ci potrebbe iniziare a pensare perché vabbè comunque ci arriviamo quindi in realtà io poi cosa ho fatto cioè quando ho detto quando poi siamo arrivati alla possibilità cioè io gli ho detto guarda un film così non ce lo produrrà mai nessuno perché è impossibile cioè è anni 70 è una commedia ma è una commedia particolare strana è politicizzata sono solo uomini non c'è una storia d'amore manca a pagarla ma chi ma chi ma cosa si fa cioè è di nicchia è strano non ci siamo però potremmo farci un documentario e quindi lì ho fatto in realtà tutto un lavoro di ricerca che poi mi è servito tantissimo poi per per la per la scrittura del film quando poi invece sono andato al produttore col progetto il documentario e il produttore mi ha detto ah ma ganzissimo ma chi se ne frega del documentario facciamoci un film e e questa cosa della ricerca è diciamo un po' la scoperta dell'acqua calda un'altra delle scoperte dell'acqua calda che ho fatto al centro sperimentale addirittura forse di più dell'acqua calda che non il lavorare in gruppo ed è ed è stato non solo ecco gli sceneggiatori italiani hanno avuto sempre questa caratteristica lavorare in gruppo e fare tantissima ricerca infatti c'era non mi ricordo se Zavattini o Flaiano che dicevano le storie si comprano al tabacchino o se no dicevano il posto migliore per uno sceneggiatore dove stare è stare sui tram con la gente cioè c'era una sorta di etica del della ricerca che in quel caso era tendenzialmente della verità e della condizione sociale che c'era in quegli anni che era la cosa a cui che interessava loro fondamentalmente poi neorealismo e commedia all'italiana poi arrivano dalla stessa radice cioè la commedia all'italiana è si appoggia sul neorealismo no? cioè il neorealismo aveva un codice morale è etico è una volontà di raccontare gli umili i più i più deboli no? un tentativo di scrittura sociale morale e fondamentalmente la commedia all'italiana prende quella radice là del neorealismo e dice va bene giusto ma noi ci vogliamo anche ride cioè questa questa è la commedia all'italiana infatti tutti gli inizi i soliti ignoti divorzio all'italiana hanno tutti ora divorzio all'italiana parla dell'artistocrazia ma lo fa per denunciare una legge iniqua no? che era quella sul che poteva ammazzare tu moglie se ti tradiva non so come si chiama però così si capisce e comunque non ci disperdiamo quindi questa era la ricerca ora la ricerca la ricerca in cosa è fondamentale la ricerca la ricerca per la scrittura è fondamentale fondamentalmente per due grandi cose la prima è la verità cioè tu se ricerchi andrai a scrivere di cose vere e non di cavolate ed è fondamentale perché diciamo uno degli errori più diciamo macroscopici che si leggono quando si si leggono diciamo degli spunti o dei romanzi o dei soggetti di persone che di solito non fanno questo mestiere ci sono una sorta di luoghi comuni quasi sempre presi da da altri fonti no? tendenzialmente la televisione e quindi ci sono tutta una serie di cose che succedono che tu vedi le hai copiate la televisione non le hai imparate dalla realtà e dalla verità e quindi questo ti mette un grande schermo non credo che ci sia necessariamente una letteratura o un cinema di serie A che è quello del reale e una letteratura o un cinema di serie B che è quello del non reale assolutamente credo che anche per il non reale tu debba fare un sacco di ricerca cioè anche se fai fantascienza anzi credo che ne debba fare ancora di più per non scrivere cavolate o per scrivere cose possibili ma c'è anche diciamo e si arriva sull'altro secondo aspetto molto importante una freschezza una verità e una diciamo una potenza del vero cioè quando tu hai e quindi per ricerca cosa si intende si intende tante cose diverse cioè si intende sia leggere i libri di un tema che tu vuoi sondare sia parlare con delle persone che hanno vissuto quell'evento come ad esempio per mettere i primi di la lista voleva dire prima di tutto andare a parlare con i tre che avevano vissuto quell'evento poi parlare con la gente che li aveva visti scappare poi parlare con persone che avevano semplicemente vissuto quel periodo o che avevano avuto paura del colpo di stato poi vai a leggerti i libri sul tentativo di colpo di stato borghese su cosa era successo in Grecia e tutta una altra serie di cose l'altra cosa che serve tantissimo è che appunto insieme a questa forza e a questa verosimiglianza ti arrivano valangate di idee che non avevi avuto perché poi nella realtà si nascondono poi le storie più interessanti e appunto ne parlavamo oggi con Marco purtroppo si nascondono a volte cose talmente interessanti e talmente folli che non le puoi scrivere perché sembrano finte che è diciamo lì è quando hai superato le colonne d'ercole della ricerca talmente hai talmente tanto talmente tanto scavato che arrivi a trovare una perla talmente ganza che la gente dice no ma dai vai in culo cioè alla fine ed è fondamentalmente un processo che forse se sei veramente bravo riesci a far rientrare però devi essere bravo a tramutare la realtà in modo che si incanali in una cosa per cui anche il tuo lettore il tuo spettatore ci arrivi a credere però sono diciamo casi estremi ecco diciamo così sta di fatto che appunto da questa ricerca che fai sia parlando con le persone sia leggendo i libri sia andando nei luoghi se ci sono se c'è da andare nei luoghi tu diciamo arrivi a comporre il quadro che altrimenti sarebbe soltanto il tuo per me sarebbe stato il soggetto di 15 pagine o se no è soltanto il romanzo da cui tenti di trarre la tua sceneggiatura ti serve tutto questo mondo attorno molto perché anche se è stato filtrato dall'autore tu devi sempre avere a disposizione più informazione dell'autore che vai a leggere perché tu dovrai per forza tradire il tuo autore e quando dovrai tradire il tuo autore dovrai essere almeno preparato quanto lui se non di più e dovrai avere delle cartucce che potrai sparare nel momento del bisogno e perché si va a tradire il proprio autore nel cinema si va a tradire il proprio autore praticamente sempre perché allora prima di tutto perché di solito si si traggono i film dai romanzi e come vi ho detto prima un soggetto di un film normalmente è di 30 pagine cioè il racconto principe per fare un film è il racconto breve non è il romanzo il romanzo ci devi fare una serie tv che ora si possono fare ma fino a dieci anni fa nessuno ci pensava nemmeno e infatti venivano sempre brutti film da romanzi bellissimi perché inevitabilmente la densità di informazione il prensiero il sottotesto che c'è in un romanzo è molto più denso di un film in più un film dura di solito 90 minuti 120 minuti un romanzo di solito dura appunto 400 300 400 pagine quindi diciamo che se quell'equazione è giusta tu da un romanzo forse ci puoi fare anche 10 film e questo quindi vuol dire che tu devi tradire perché dovrai tagliare tantissimo del romanzo infatti tendenzialmente credo che gli adattamenti meno riusciti sono quelli che tentano di mantenere il romanzo com'è quello è un adattamento che tendenzialmente non funzionerà purtroppo 90% dici ma tutti gli sceneggiatori del mondo sono scemi no il produttore ti dirà tu ci devi mettere tutto il romanzo perché io ho comprato quel romanzo lì la gente vuole rivedere quella cosa lì se tu mi fai una roba super strana poi magari la gente non mi ci viene però fondamentalmente facciamo l'esempio classico e più meravigliosamente riuscito di un adattamento di un romanzo che è anche lì però è un romanzo molto breve perché è 60-70 pagine mi sembra di ricordare che è Cuore di tenebra di Conrad da cui Coppola fece Apocalypse Now allora lì c'è un tradimento enorme del romanzo che era ambientato in Congo in Africa nell'epola coloniale e viene traslato nella guerra del Vietnam con gli americani e i vietnamiti al posto degli africani e dei colonialisti quello e dici però cavolo c'è avuto una grande idea tra l'altro c'è avuto una grande idea tu che sei un regista e sceneggiatore e sapevi che quello c'era 60 pagine e infatti ci ha fatto un film di due ore e mezzo però tutto è tornato cioè e quindi quel tradimento lì che è fortissimo però cosa è che non tradisce non tradisce qual è il cuore e il senso del romanzo di Conrad ed è questa la cosa veramente importante io credo quando si va ad adattare un che sia un romanzo o un'altra forma letteraria o il memoir del mio Renzo Lulli cioè io devo riuscire a non tradire cioè io posso tradire tutto tranne il suo senso e credo anche il tono sul tono forse no perché magari uno può magari da una cosa molto drammatica trovare il modo di farci un musico molto divertente e potrebbe funzionare lo stesso non lo so però di sicuro non il tema il senso che quel che quel che quel libro mi voleva mi voleva portare ovviamente è è una cosa molto rischiosa perché è una sorta di trapianto a cuore aperto che che può andare bene può andare male ovviamente dipende dalla complessità dell'operazione che uno sta facendo però non bisogna ecco diciamo focalizzarsi sul sul dito e non sulla luna cioè la luna sembrerebbe tutto quello che è stato scritto nel romanzo tutta la storia ogni tipo di plot i personaggi eccetera ma in realtà non è quello quello è il dito la luna è il senso intrinseco che ha quel romanzo cioè qual è il senso l'emozione l'idea forte che è nascosta come una sorta di scrigno dentro il romanzo io devo preservare quello e me ne posso sbattere di tutto il resto se io capisco qual è quello per me e credo di essere onesto nell'averlo scoperto e credo che quello sia la cosa a preservare a quel punto posso costruire attorno anche un setting e dei personaggi completamente diversi e credo che siano tra l'altro gli esperimenti e le situazioni più interessanti da fare io ad esempio non l'ho dovuto fare per i primi della lista però c'aveva delle caratteristiche molto buone io credo di aver avuto molto fortuna a trovare una storia come quella dei primi della lista perché aveva delle caratteristiche veramente più uniche che rare era una storia vera e quindi io non mi dovevo preoccupare di dire ma ma starò prendendo oddio starò facendo un oltraggio agli anni settanta a quel periodo così complesso e contraddittorio ridendoci sopra no perché quella era una storia vera successa in quel momento lì che quando tu la racconti ridi e quindi questa cosa qui mi metteva veramente una sorta mi toglieva un grande peso sulle spalle quindi non mi dovevo più preoccupare di quello è vera è successa tu la racconti ridi è una storia molto contraddittoria bello che sia così perfetto non mi devo più chiedere questo mi dovevo chiedere però tutta un'altra serie di cose che Lulli dava per scontato e io non potevo ad esempio tutto si basa i primi della lista sul fatto che a quel tempo ci fosse una ragionevole paura che ci fosse il colpo di stato ok perché se no i nostri tre protagonisti erano tre imbecilli e basta allora come facciamo noi a creare per tutta la gente che lo vede non solo quelli che hanno vissuto in quel determinato ambiente politico e in quei determinati anni fare capire che cioè scusate guardo se sto troppo adesso siamo arrivati ok cavolo pensavo di meno era vabbè vabbè comunque chiudo questa cosa dell'adattamento e vi lascio comunque come facevo a risolvere quel problema là e qui si rientra dentro quella questione di cui vi parlavo prima cioè di quale stile scegliere per la vostra storia cioè a un certo punto noi abbiamo pensato a tradire il racconto e lulli come era scritto che era così lineare e semplice e aveva quest'altra grande caratteristica secondo me di avere un'unità di luogo di azione e scusate di tempo di azione e secondo me in qualche modo anche di luogo perché un'altra cosa che ho detto è questo il romanzo e anche lì si capisce qual è un romanzo adattabile o no può variare e svarionare e andare a giro randagio per tempi momenti perdersi in un minuto e poi raccontarti fra 50 anni se c'è uno stile che lo supporta lo puoi fare per il film è molto più diverso il film si basa sulla drammaturgia aristotelica nel 90% dei casi e quindi l'unità del luogo del tempo dell'azione è fondamentale almeno ce ne deve avere due se no è veramente un casino e non è un caso infatti che diciamo la maggior parte dei manuali che insegnano come scrivono le sceneggiature e ce ne sono diversi e tanti e credo che comunque servano anche se purtroppo cioè è la classica cosa che è giusto leggerla ma non ti farà imparare a scrivere però è meglio leggerla ecco tutti quelli lì hanno comunque in momento i tre atti di Aristotele cioè ti spiegano la struttura dei tre atti perché fondamentalmente poi la drammaturgia del film si basa sulla drammaturgia teatrale più che su quella del romanzo detto questo io invece in quello spunto di Memoir del Lulli avevo esattamente un tempo molto chiuso perché tutto si svolgeva in una settimana dieci giorni ma in realtà il cuore del film si svolgeva in ventiquattro ore diciotto ore cioè da quando loro dicono oh hanno chiamato c'è il colpo di stato scappiamo a quando sfondavano il confine e poi si ritrovavano incarcerati e aveva un'azione cioè cos'è che raccontava questa storia la paura del colpo di stato cioè io non dovevo non stavo raccontando gli anni settanta non stavo raccontando le lotte di liberazione il femminismo no io stavo raccontando una cosa ben specifica che era la paura del colpo di stato e le conseguenze che aveva sui miei tre protagonisti punto poi secondo me c'era anche una sola certo il luogo essendo un on the road si parte da Pisa ci si ferma la stazione di servizio poi si arriva lì poi si arriva in carcere però fondamentalmente il luogo che per me era importante capire quando l'ho capito ho detto ok anche su questo ci siamo tolti questo problema era la fuga cioè loro stanno fuggendo punto io mi devo preoccupare soltanto di far rientrare tutto quello nella fuga infatti una delle cose che leggerete in questi manuali per scrivere sceneggiature è che come Aristotele insegna se una storia è fatta bene ogni sua singola scena riporta tutto al tema centrale è una sorta di struttura ricorsiva come un frattale cioè io ti sto raccontando una grande fuga se tu sei bravo ci penserai ti dovrebbe venire se sei bravissimo ti viene naturale e poi riguardi indietro e dici cavolo è tutto giusto se non sei bravissimo come me invece ti metti lì e l'analizzi e dici ok questa è una scuola dove ok cosa facciamo facciamo un'assemblea dove arrivano e loro scappano e poi lui è a casa sua mamma dice hai preso una multa quindi non puoi andare via e lui deve scappare di casa cioè questa situazione se tu riesci a ripeterla vuol dire che stai andando nel senso giusto e io sono arrivato a 45 minuti stop dalla regia mi dicono che coffee break no ma perché io sono infinito cioè non è che dai facciamo coffee break e poi mi fate le domande dai però ti posso chiedere una cosa così rompo il ghiaccio vai rompi il ghiaccio Sere parla il microfono soltanto perché viene tutto registrato e così si sentono anche le domande non solo le risposte Arona per quello che poi ve lo passo eventualmente che visto il tempo che aveva a disposizione insomma e tutto non l'hai potuto affrontare la questione però chiaramente tu hai fatto l'esempio di scrivere per il cinema e quindi ho parlato del romanzo eccetera è diverso scrivere per la televisione e poter scrivere una serie televisiva immagino che il processo invece sia differente in qualche modo forse anche credo una certa fedeltà invece più seguire più gli aneddoti la trama eccetera valga in maniera diversa forse per questo oppure no dimmi tu insomma comunque per quel che è stata la tua esperienza allora no io credo che in realtà ma più che allora la differenza maggiore fra scrivere del cinema e scrivere serie tv che io purtroppo non ho potuto apprezzare appieno ancora cioè in realtà l'ho fatto con una serie che si chiama Raccontami tanto tempo fa è quella della ampiezza del racconto cioè appunto nel cinema sei confinato sempre per fare il modello restare il modello letterario a un racconto di 30 40 pagine mentre con la serie tu puoi finalmente sondare il romanzo io credo che sia questa la grande il grande successo che sta avendo adesso il formato serie tu hai la possibilità di veramente raccontare i personaggi con una profondità con una dinamica che non sia unicamente quella diciamo del film che è appunto il personaggio ha un problema ha un desiderio rispetto a questo desiderio nasce un problema e quindi un conflitto il personaggio affronta questo conflitto a un certo punto sembra non farcela mai poi alla fine ce la fa e riesce nella serie questo può diventare molto più complesso e più ampio i personaggi che hanno uno spessore drammaturgico psicologico più profondo possono essere più dure non solo il protagonista quindi è questo io ho potuto scrivere di serie fondamentalmente la serie di cui ho scritto più stagioni e di cui io ero perché io ho scritto anche racconta due stagioni di raccontami che erano dei racconti cioè era un romanzo lungo però non ero io cioè io ero uno degli sceneggiatori diciamo chi orchestrava completamente la trama non ero io e quindi non mi potrei sentire pieno di quel processo con Malvaldi invece comunque eravamo fondamentalmente noi a scegliere le linee narrative però Malvaldi è una forma mista di serie tv cioè Malvaldi si basa comunque sul giallo quindi ogni puntata è autoconclusiva anzi credo che fondamentalmente all'inizio l'idea del mio produttore fosse di fare puntate unicamente autoconclusive come fondamentalmente è Montalbano visto che lui fa Montalbano e noi abbiamo provato parlando anche prima con Marco così a invece almeno fare una sorta di genere misto fra l'orizzontalità di una serie come può essere una serie come Breaking Bad o I Sopranos insomma le serie quelle più classiche americane che vanno oggigiorno cioè che si espandono in orizzontale e non una serie che si autoconclude verticalmente ogni puntata abbiamo tentato di fare una cosa mista quindi ogni puntata si autoconclude quindi il giallo si autoconclude lo scherzo fra virgolette i vecchini si autoconcludono ma i personaggi in qualche modo hanno dei conflitti che poi hanno conseguenza sulle puntate dopo e ovviamente per le serie ma anche per il cinema c'è un'altra cosa che va sempre detta e che io non ho detto che è un limite molto più forte rispetto al romanzo e cioè che nel cinema e nella televisione non si può fare tutto perché non c'è quasi mai cioè non c'è il budget sufficiente a fare tutto no? quindi o sei una proprio una un'enorme produzione americana ma anche in quel caso fidatevi che ci sono certe cose che devi fermare cioè perfino sentivo George R.R. Martin che è lo scrittore da cui è stato tratto Game of Thrones e in una in un'intervista diceva eh purtroppo ci sono problemi di budget e io facevo cosa? e quindi a volte dobbiamo fare entrare il generale nella tenda e dire l'abbiamo vinta bene questa battaglia con 600 mila e saltando tutto quindi in realtà ce l'hanno anche loro i problemi di budget sono più piccoli dei nostri però quindi tendenzialmente e poi c'è tutta altre dinamiche quindi diciamo che c'è una limitazione creativa che è molto forte che però non deve essere vista soltanto come uno svantaggio cioè molte volte il fatto di essere costretti in delle idee ti fa ti fa avere invece poi delle soluzioni che magari non avresti avuto che portano una drammaturgia e uno sviluppo dei personaggi migliori quindi non è del tutto detto questo però è così credo che la vera differenza da serie tv e perché tante persone e anche io vorrei scrivere serie tv è che certo il cinema c'ha la meraviglia del pubblico in sala c'è la sala c'è un certo tipo di suono c'è un convolgimento emotivo che mi strazia solo pensarlo di perderlo la risata della sala l'applauso l'attenzione però hai veramente un tempo confinato e quindi puoi raccontare quel tipo di storie la serie tv tu puoi raccontare dei romanzi e puoi lasciare veramente anche a te stesso il mistero di dire ma chissà poi come andrà in stagione 3 perché di solito tu scrivi la stagione 1 la stagione 2 la 13 forse potrebbe succedere questo ma in realtà dalla 3 in poi non lo sa nessuno e quindi c'hai anche il mistero di vedere poi come il personaggio cambia mentre tu lo scrivi hai una possibilità un'altra cosa che il cinema non ti dà è che una volta che tu l'hai scritto e l'hai girato è finito mentre lì tu cosa succede che mentre vedrai sullo schermo della prima stagione i tuoi personaggi inizierai a dire ah ma questo aspetto è veramente interessante questa cosa qui quell'attore lì la fa veramente bene lì ha improvvisato una cosa che non ho pensato ma che è perfettamente nel personaggio e quindi quando lo vai a scrivere nella seconda stagione e lo fai ancora evolvere tu hai l'opportunità di lavorare su qualcosa che tu hai visto vivo è una cosa meravigliosa che il cinema ad esempio non ti dà quindi credo che ci sono tante differenze e che per uno scrittore se togliamo unicamente la goduria della sala è troppo meglio scrivere serie tv grazie ok allora noi ovviamente siamo insegnanti che vogliamo prendere da questi incontri tutto ciò che ci rende possibile allora io volevo chiederti due cose allora la prima è questa io ma credo anche insomma i colleghi ci troviamo spesso a far leggere il libro e poi fai vedere il film no? per cui ti senti poi il commento dei ragazzi prof ma è diverso ma perché a volte addirittura cambia il titolo e quindi ovviamente tu hai cioè come poter spiegare loro anche insomma a volte ci arriviamo però a volte ovviamente ci sono anche dei segreti della vostra professione che possono spiegare questo tipo di passaggio e diversificazioni dal libro al film questa è la prima cosa io ora dico tutto insieme la seconda è questa l'anno scorso portai i ragazzi a Palazzo Blu a vedere Tirrenia città del cinema e avendo scelto anche il laboratorio ci proposero questo lavorino di sceneggiatura molto breve molto piccolo però ecco volendo davvero proporre una cosa del genere in classe cioè come perché tu devi giustamente tu dici la sceneggiatura presuppone un lavoro insieme ma non di quattro cioè le nostre classi sono di 28 alunni per cui come poter rendere davvero anche più piacevole o più creativo un lavoro insomma un lavoro di sceneggiatura per cui se puoi consigliare un libro piccolo perché non abbiamo intenzione di fare una serie e come poter lavorare davvero contro i tui ragazzi perché noi abbiamo classi anche così ti ringrazio allora parto a quest'ultima e guarda io allora intanto ti consiglierei di di far lavorare a gruppi cioè non tutti insieme perché è impossibile 31 è impossibile ma già quattro anzi cioè secondo me dovresti o capendo tu o o facendoli anche scegliere a loro questo non lo so sapete meglio voi però dovrebbero essere anche persone che vanno d'accordo tendenzialmente perché poi anche a un certo punto di facciamo una cosa ganza due che si odiano ok e può avere i suoi però sarà più difficile però a un certo punto poi anche diceva quello su allora i libri guarda ti dico eviterei tendenzialmente i cioè i libri quelli che di cui parlavo diciamo i tecnici americani diciamo perché sono molto interessanti per la struttura ok tra l'altro c'è un libro che si chiama il viaggio dell'eroe di Vogler che racconta proprio come è codificato questo viaggio diciamo parabola drammaturgica dell'eroe da a murabi no a poi no o da odisseo in poi e quello ad esempio quello già forse è più interessante perché può parlare appunto di Enea di Ulisse di Dante cioè è una roba più ampia quindi però dovresti andare a te lo dovresti leggere prima te poi capì cosa viaggio dell'eroe di Vogler invece andrei però ora mannaggia non mi ricordo il titolo ad andare invece a prendere degli italiani e bisognerebbe andare a rivedermi non mi ricordo però mi ricordo che ne aveva scritto uno Age che era Age Scarpelli era uno dei due e aveva scritto come scrivere un film o una cosa del genere e l'altro se non mi sbaglio c'è anche però non mi ricordo più se è di sceneggiatura o invece di scrittura lo scritto Cerami che mi sembra gli italiani hanno diciamo un un atteggiamento un po' meno performativo diciamo arido ma un po' più umano e quindi andrei a cercare Cerami ma Age chissà se l'hanno pure ristampato cioè sarà perso in qualche biblioteca però ci proverei guarda tra l'altro sulla struttura in realtà secondo me una cosa che puoi fare è anche senza leggerti te tutto il libro se uno va su internet e scrive struttura tre atti seed field ok s y d f i e l d ma anche struttura tre atti cinema così secondo me trovi dei blog che te la spiegano in una pagina e quello va benissimo per l'inizio anche perché se loro si mettono a scrivere e qui però c'è un altro problema da dire è questo cioè ti direi scriviamo un corto giusto? hanno detto così scriviamo un corto no eh no no ma secondo me è ganso secondo me perché no ma deve essere ganso è una buona idea è una buona idea non ti butta giù però io direi però no io direi è una buona idea però cioè eh no è difficile esatto è è delicato metterla in pratica però secondo me cioè il solo è per quello che ve lo dicevo all'inizio il solo processo di mettere quattro persone capito insieme di una classe a ragionare su una storia secondo me è molto buono il problema è che se cioè dovrebbe avere è come se ci si dovrebbe inventare una modalità che ha un po' una gabbietta secondo me che non è troppo stretta ma non è manco troppo larga cioè ci vorrebbe un'idea che non è che parti proprio scrivete qualsiasi storia che vi pare capito una cosa secondo me anche molto interessante che perché no però ad esempio io ad esempio una cosa lì perché se no rischi semplicemente che loro fanno questo 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 no sarebbe allora di costringerli però a dire però questo qui parla di un uomo che è in città non deve parlare di questo cioè magari vi viene in mente che è un papero che vuole volare non lo so capito cioè fagli fare uno sforzo non solo di di sezionamento del del test un'altra cosa interessante è anche ad esempio un lavoro che è sicuramente interessante è il lavoro di ricerca cioè ad esempio dire scriviamo delle storie ora questo è proprio no questo forse è troppo veramente difficile però ve la faccio ma questo è proprio no no dico perché no facciamo delle storie d'amore che è la cosa più difficile del mondo oggigiorno capito però la cosa interessante sarebbe fargli il processo di ricerca capisci cioè dire ok ora andate tutti a ricreazione da quelli della quarta D che non stanno facendo questa cosa e saranno le vostre cavie e li pigliate e gli fate le domande che domande li vorreste fa capito cioè allora quella cosa lì può essere interessante se no il rapporto con non lo so ah guarda io credo onestamente che appunto dovremmo fare un attimo delle mente locale per capire quali sono dei degli adattamenti riusciti dai libri perché secondo me sono pochi a volte il libro ti propone delle dei filari di un uno non voglio monopolizzare ah no ma figlio no perché secondo me quando sono attendo quando sono acceso io no ora ti faccio un esempio hanno letto il libro di Ammanniti io e te molto piccolo un librettino proprio piccolino che finisce in un modo cioè poi il film ovviamente è finito in tutt'altra maniera cioè il fratello lei muore nel libro invece il fratello e la sorella lì si salutano per cui però offre come mai lì mi è venuto molto in mente la famosa scelta di Visconti rispetto all'innocente no per cui cioè nell'innocente il bambino muore e e lui se non sbaglio si no e Visconti lo fa suicidare perché chiaramente vuole redimere la morte di questo bimbo allora io ho pensato ma forse il regista ha voluto lasciare il finale aperto capito cioè loro se le pongono questo è il problema guarda però sto pensando io non ho paura libro io non ho paura di Salvatores che è fatto benissimo tra l'altro però io infatti ma lì molto importante stavo pensando io proprio io non ho paura visto che hai tirato fuori io e te io non ho paura se voi lo andate a leggere è un trattamento cinematografico praticamente se te cioè è una sceneggiatura cosa io non ho paura io non ho paura ma infatti lui ci ha riuscito perfettamente perché il libro e il film è bellissimo però io però per i cambi di finale o dei cambi nel momento di cioè l'unico modo per rispondere perché te non lo puoi sapere è impossibile è trovare delle interviste ai registi senti ho fatto leggere il vecchio il mare mi fa intervista a Spencer Tracy che è morto da acqua e di cioè voglio fare le accoglie del film però hai ragione ma magari a volte bisogna vedere però magari uno spulcia su youtube e trova un'intervista cioè perché l'unica perché magari io non lo so e sicuramente Bertolucci non è però chissà magari ora non sarà successo però capito il produttore dice però lei muore no dai facciamo una film bene magari è stato il produttore non per Bertolucci credo però no uno interessante forse da leggere io non ho letto il romanzo però io appunto ho parlato con Francesco Piccolo e Virzi che l'hanno scritto il capitale umano dice che tutta la destrutturazione temporale che hanno fatto nel film nel romanzo dice che non c'è ecco ad esempio quello può essere interessante poi mi sembra un film particolarmente riuscito certo è un po' duro però di giovani ci sono e loro magari cioè un'altra cosa è andare a vedere se ci sono prima delle interviste agli autori su come hanno lavorato sui testi ah buono bene com'è come scrivere un film no com'è scriviamo ah scriviamo un film va bene lo dico io scriviamo un film di age 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 saggiatore saggiatore volevo fare una domanda su malvaldi delizie del barlume perché appunto ha parlato di tradimenti va bene e in realtà io come ho letto sia i libri che ho visto film che mi sono piaciuti però l'ho trovato insomma delle scelte diciamo molto diverse a parte il fatto anche il personaggio di Massimo che diciamo è molto più contorto nei film diciamo e poi per esempio la commissaria che perlomeno nei primi romanzi è un commissario quindi ovviamente si tratterà di scelte come ha detto se che sono scelte funzionali evidentemente in questo caso alla serie perché comunque i libri funzionavano bene lo stesso insomma e poi un'altra cosa però non so se può essere utile questa è soltanto un'indicazione scopera mia nipote ha fatto una tesi sulla trasposizione a fumetti del grande Gersby e allora uno dei testi che gli era stato consigliato sentisero la teoria dell'adattamento dove appunto ci sono tutte queste indicazioni delle trasposizioni da libro insomma da un codice a un altro praticamente quindi se le colleghe e i colleghi sono interessati ora non mi ricordo assolutamente il titolo no il titolo si gli autori però ecco era diciamo è stato consigliato all'università quindi è un libro insomma interessante la domanda a te era su Malvaldi sì sì e sì no su Malvaldi abbiamo fatto un lavoro abbastanza anche radicale insomma di di revisione dei racconti e dei romanzi allora devo fare una premessa è che è questa che io non ho fatto i primi due racconti non c'ero e quindi ad esempio quando sono arrivato io la scelta di prendere la di fare la Fusco o una commissaria non ho partecipato a questa scelta so però perché è stata fatta e ad esempio lì è una questione loro hanno detto ci sono quattro vecchini c'è Massimo rimarrebbe soltanto la Tiziana e l'altro personaggio sarebbe un maschio e quindi ci sono troppi maschi io non a questo non non entro cioè dentro perché per me il problema poi è però cioè capisco capisco la logica però allo stesso tempo secondo me è subentrato un altro problema e cioè che i romanzi di Malvaldi si basavano sul fatto che il commissario Fusco fosse molto stupido e che quindi i gialli dovessero essere risolti in altra maniera essendo diventata donna non poteva essere più molto stupida e quindi in carto detto questo credo che poi sempre per la teoria per cui dei problemi poi portano soluzioni sperate non viste in realtà poi la Fusco commissaria a noi nella serie è servita moltissimo e ora a quarta stagione siamo riusciti a mettere a fare entrare un altro commissario molto stupido che l'andava a sostituire quindi quel meccanismo che Malvaldi aveva utilizzato nei suoi primi romanzi era mantenuto poi ci sono delle cose ad esempio questa ad esempio è un esempio la produzione Sky Palomar dicono qui diventa tutti uomini e una sola banconista fia che mostra le tette non ci piace vogliamo una commissaria credo è allo stesso tempo mettendo la commissaria però poi c'è quel problema quindi come vedete è una questione molto delicata che si basa sempre su non c'è mai una soluzione che va quasi sempre tutto bene per sempre cioè si creano dei meccanismi altra cosa rispetto a Malvaldi cosa appunto che lui dice sempre è fondamentalmente la gente che legge i miei libri non lo fa tanto per i gialli quanto perché c'è un'atmosfera un'ironia brillante una sorta di battuta dietro l'altra no? Sky voleva e anche qui credo che avesse ragione invece puntare di più sul giallo perché c'è una questione che quando tu hai deciso che compri un libro c'hai quello quando tu hai il telecomando in mano in qualsiasi momento puoi pigiare un altro tasto e il giallo è ovviamente il meccanismo principe cioè uno dei meccanismi con cui tu non fai pigiare il telecomando allo spettatore quindi loro volevano dei gialli diversi o comunque maggiorati ecco rispetto a quello di Malvaldi quindi c'era da fare un altro lavoro sempre le prime due puntate che io non c'ero era stato scelto come uno dei quattro vecchini Carlo Monni che era sicuramente il più forte di personalità era l'emblema era un simbolo e incarnava secondo me perfettamente il personaggio di Malvaldi Ampelio quando è morto Carlo Monni veramente c'è stato una c'è posto un altro problema cioè cosa succede manteniamo il personaggio di Malvaldi che ha nei suoi libri ed è così importante o e sostituiamo l'attore Carlo Monni con un altro attore o ci facciamo morire Ampelio nella serie è una grande decisione anche questa che tra l'altro è stata fatta insieme a Malvaldi anche questa e lo stesso Malvaldi è abbastanza inorridito all'idea di cambiare attore scalzando Carlo Monni con qualcun altro credo che sarebbe stato un po' brutto sia per Carlo Monni che per l'attore che arrivava che poi doveva fare a botte con Monni cioè che è impossibile e anche per il personaggio quindi poi ad esempio lì insieme a Marco abbiamo deciso di iniziare la serie la puntata dopo con il funerale di Ampelio e Carlo Monni quindi facendo un omaggio a tutte e due quindi piano piano tutto ha iniziato a cambiare a volte per scelte a volte per per questioni invece che imponderabili e questo ha creato quindi il presupposto per cui ci siamo ritrovati in più Marco avendo visto la serie aveva fatto entrare una commissaria giovane che si chiamava Alice però con caratteristiche molto diverse da quello che sarebbe diventato la fusca nella serie insomma è come se a un certo punto il mondo del barlume di Pineta rimanesse lo stesso ma in qualche modo poi le storie si muovono su due binari paralleli e questo credo che non sia stato facile prima di tutto per Marco e perché comunque era il suo mondo era il suo immaginario insomma cambiato ogni volta cambiare di più insomma non è stato facile è vero anche che c'è stato sempre al nostro fianco durante la scrittura e che ora ad esempio concordiamo praticamente tutto insieme e che quindi il fatto che ci siano questi due binari paralleli e divergenti sia anche oramai preso a carico da Marco quindi diciamo si è creato un nuovo direi modalità dove lo stesso autore collabora al tradimento dei propri romanzi che è un po' anche lo fa George R.R. Martin con House of Cards e scusate con Game of Thrones addirittura a un certo punto siccome loro lì hanno poi impellenze molto più grandi di noi c'è un giro di soldi molto più grandi di noi devono fare ogni anno e lui non riusciva a stare dietro la serie è andata oltre i libri quindi la serie è più avanti dei libri e quindi ora quando tu vai a leggere i libri di George R.R. Martin sai già cosa è successo è così il mondo del cinema purtroppo il mondo della televisione rispetto al cinema c'ha quello anche cioè che il film sai una volta è andato è andato Francesco Piccolo ad esempio è anche qui come dicevamo prima rispetto ai registi che possono avere idee molto contraddittorie rispetto alle cose Francesco Piccolo ad esempio è uno che dice io siccome ho adattato romanzi di altri ad esempio lui ha adattato Caos Calmo probabilmente adatterà La Ferrante insomma bella responsabilità anche lì lui dice io e lui è uno scrittore di romanzi lui dice io se il mio romanzo viene preso per essere adattato non ne voglio sapere niente cioè loro lo prendono devono fare il loro lavoro che è cambiarlo io non ci voglio entrare nulla il libro tanto rimane quindi in qualsiasi momento tu dici non ti garba beh vedi hai fatto una cosa diversa io il mio libro è lì intatto lo può leggere chiunque il film o la serie va per la sua strada ed è giusto che sia così altre domande ultima domanda ultima no no abbiamo ancora un po' di tempo ultime due eh mi sa che posto così e vabbè grazie mille niente insegnate bene ragazzi fate di fare botte ciao ciao